se hai l'energia giusta per combattere caldo e fatica si vede si vede che con te c'è polase che da sempre rigenera le tue forze e oggi scopri il nuovo polase plus a te che vivi giornate intense da più energia e si vede una formula concentrata con più magnesio e più potassio in una sola bustina per vivere ogni giorno con una marcia in più quando hai energia si vede che c'è polase